La polemica sullo stato del manto erboso del San Nicola è scoppiata soprattutto in rete. Molti, compreso qualche cronista che ha seguito il trofeo team, hanno addossato le responsabilità al sindaco di Bari, ma Michele Emiliano non solo ha immediatamente risposto su Facebook tirando in causa la società sportiva Bari, ma ha anche convocato una conferenza stampa chiarendo che la manutenzione ordinaria tocca la società, quella straordinaria, al comune di Bari. Da 22 anni, cioè da quando lo stato di San Nicola è stato costruito, il manto erboso è curato dalla S Bari, in particolare credo da un agronomo della società e dunque il comune di Bari non ha nessun ruolo né nella manutenzione né nella decisione se giocare o non giocare il torneo. Le partite erano arbitrate da arbitri federali che hanno il compito prima di iniziare la partita di stabilire se il fondo è idoneo o non idoneo. C'è un organizzatore dell'evento, la Master Group, che è la società di comunicazione del Bari che gestisce il manto erboso. Se evidentemente nessuno di questi tre soggetti ha ritenuto che il campo fosse in idoneo, il comune deve presumere che il campo fosse sufficiente per giocare. Sarebbe disposto comunque il comune a dare una mano alla società? Se servisse, visto che il punto drammatico è che la società è in una condizione economica gravissima. È riuscita miracolosamente ad iscriversi al campionato, non ha fatto neanche la campagna di abbonamenti perché non c'era nessuno che volesse comprare gli abbonamenti e ha milioni di euro di debiti. Se per finire questo campionato e sperare che durante questo campionato si trovi un acquirente fosse necessario il nostro intervento per una migliore manutenzione del campo erboso, siamo anche disponibili a dare una mano. Mi ha detto che rimane disponibile verso la società, però in realtà non vi parlate da anni. In realtà la società addirittura a un certo punto in piena campagna elettorale ha preso una maglietta del Bari e ci ha messo su il logo Berlusconi, il popolo della libertà, quindi è difficile dialogare in queste condizioni. Io ricordo che questo tipo di politicizzazione della squadra mi è pesata molto, però non ho mai detto una parola. Sono disposto a dialogare, sono disposto a trovare tutte le soluzioni, a dare una mano in tutte le maniere, ma l'unica soluzione è vendere la squadra a chi se la può permettere e a chi può riportare a Bari il calcio che abbiamo visto sabato sera. La S Bari ha 28 milioni di euro di debiti e ora che passi la mano ad altri. E allora sì che diventa appetibile comprare stadio, squadra e servizi annessi che si potrebbero creare. D'altra parte è stato contattato lo stesso Renzo Piano che si è detto disposto a demolire e ricostruire con strutture accessorie. Insomma, così com'è, il San Nicola è solo un costo insopportabile per chiunque, ma in una diversa prospettiva può rappresentare un business e il Comune di Bari in questo senso è più che disponibile.